Andiamoci da fare! Andiamo! Razzato nemico danneggiato! L'abbiamo preso! Razzato nemico danneggiato! Preso! Razzato nemico... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. L'abbiamo preso! Li abbiamo danneggiati! Grazie a tutti. 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 Peccato. Grazie a tutti. 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 Colpo! Centrato! Barazzato nemico distrutto! Un percorso nemico danneggiato! E' un'imperazione non solo si tratta di un logico per un volo di vicino. Non so ¿verdad? Non so, non so, non so. Un percorso nemico! Un percorso nemico è danneggiato! L'abbiamo preso! È rimbalzato! Veicolo nemico distrutto! Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info